Benvenuti, buona serata a tutti. Questo è il quarto webinar della serie di webinar organizzata con il Consolato Generale della Repubblica di Corea. Dopo la ceramica coreana parliamo di altre forme di artigianato distintive della Corea e Sara ci porterà in questo viaggio nell'arte tradizionale coreana. Quindi Sara, se vuoi cominciare. Buonasera a tutti, benvenuti di nuovo. Ecco, vado, condivido subito lo schermo, iniziamo. Vincenzo mi dici se vedi correttamente? Sì. Ok. Allora, stasera parliamo di alcune tradizioni artistiche coreane. Solo alcune perché in realtà sono tantissime, sono una quantità incredibile, c'è grande varietà anche regionale. Io ne ho scelte alcune, che ho riassunto qui. In base a cosa le ho scelte? Diciamo che l'idea del webinar nasce inizialmente con la ceramica, perché appunto c'è questa grande bellezza, questa produzione artistica fantastica che in Italia era ancora abbastanza sconosciuta quando l'ho scoperta io qualche anno fa. Adesso forse si conosce un pochino di più, però comunque non ci sono molti negozi, dicevamo l'altra volta questa cosa, in cui si possono acquistare ceramiche coreane. Ed ecco che praticamente io un giorno ero in giro per negozi e trovo nella mia città che avevo aperto un nuovo negozio di prodotti giapponesi. E girando all'interno di questo negozio pieno di prodotti artizionali giapponesi, ho iniziato ad immaginare invece un mio negozio ideale con prodotti coreani. e ho iniziato a pensare a quello che avrei voluto vendere io in questo negozio di eccellenze coreane. E inizia tutto con la ceramica e poi piano piano ho aggiunto varie cosine che mi hanno affascinato. E ora ve ne parlerò nel dettaglio. Allora, iniziamo a parlare della carta, la carta Hanji, che è la carta diciamo più famosa della Corea. E' il tipo di carta per eccellenza diciamo della Corea perché è una carta resistentissima e per la sua qualità di essere appunto così resistente, oltre che bella, è stata apprezzata per secoli in Asia orientale. E adesso è anche molto stimata in Occidente, tant'è vero che a Roma, nell'Accademia di Belle Arti di Roma, si studia la carta Hanji e si produce la carta Hanji. Ecco, qui che cosa vedete in questa foto? Praticamente c'è un tempio buddista della città di Kionju. E in questo tempio ci sta una pagoda, detta Sokkatap, che è registrata come tesoro nazionale numero 21. Fu cobbledata nel 751, quindi siamo nel regno di Shilladi, che parlamo anche nel scorso webinar. Praticamente al suo interno, nel 1966, durante dei lavori di restauro, è stato scoperto una stampa silografica di un sutra. Questo sutra è anche a sua volta registrato come tesoro nazionale numero 126, ora si trova nel Museo Nazionale di Corea, e la particolarità è che è presente questo sutra, è stato scritto appunto sulla carta Hanji, ed è stato calcolata la sua età in base all'anno di costruzione della pagoda, e quindi questo sutra dovrebbe avere 1250 anni. E praticamente lo troviamo ancora per l'età che ha in buone condizioni, quindi una incredibile durevolezza di questa carta. Tra l'altro è stato ritrovato anche a Busan, nella città di Busan, un Buddha al cui interno si era conservato del ginseng, un bunta di circa mille anni, e avevano trovato al suo interno del ginseng ancora conservato, e hanno scoperto che si era conservato appunto perché era stato avvolto in questa carta Hanji, che è molto resistente all'umidità e quindi aveva permesso la conservazione di questo ginseng. Ora, questa carta è prodotta da un albero che in coreano si chiama Tannamu, e appartiene alla famiglia delle Moracee, ed è un rinomato gelso utilizzato per produrre la carta. Ora, in italiano è tradotto come gelso da carta, anche ho visto in inglese Paper Mulberry, ma diciamo che la traduzione non è proprio correttissima, perché in realtà ho scoperto che c'è un altro tipo di gesso da carta in Corea, che si chiama Kujinamu, e che corrisponderebbe a quello usato in Europa. Quindi quest'altro Tannamu ha queste caratteristiche che lo rendono la sua carta più resistente. Ma diciamo che la durevolezza della carta non sta soltanto nel tipo di albero, ma anche in altri elementi che fanno parte della tecnica con cui questa carta veniva prodotta. Prima di tutto l'assenza dell'uso di acidi, poi il collante che si ricava dall'ibisco maniot, che c'è dalla mucillagine che producono le sue larici, mentre normalmente per la carta noi usiamo un collante derivato dalle palme. Poi l'uso del ranno, che è prodotto dai ceneri di paglia, che hanno questa qualità di prevenire la formazione di funghi e altre sostanze che favoriscono l'acidità. E non è usata invece la soda caustica, che è usata per produrre la carta normale. Io avevo messo un video, però forse non ci sarà tempo di vederlo, quindi andiamo avanti. Praticamente con la carta kanji non è che si usa soltanto per scrivere su di essa, ma è utilizzata anche per altre produzioni artigianali. Ad esempio qui vedete che serve per rivestire queste porte e queste finestre di case tradizionali, proprio perché ha una buona resistenza all'umidità, però ha anche una buona traspirabilità e permette anche l'ingresso della luce, molto luminosa, permette a queste case di essere molto luminose. Questa carta era utilizzata ed è ancora oggi utilizzata appunto come elemento o di decorativo delle case. Inoltre per questa sua particolarità, che per queste sue particolarità, veniva anche utilizzata in epoca Gioson per fare delle serre, proprio in cui venivano cresciuti i vegetali. Qui abbiamo un altro esempio di un'abitazione tradizionale, con le cui porte e finestre sono tutte rivestite di cartangi. Questi sono degli interni, molto belli, potete vedere molto luminosi. Un altro interno. Cosa si fa poi con la carta Hanzi? Si fanno anche le lanterne. A breve, ma proprio domani, inizia il Soul Lantern Festival, che praticamente è al centro di Seoul, sul fiume Chong Gioson. E praticamente questo fiume, qui è un piccolo fiume artificiale, praticamente viene riempito di lanterne molto grandi, anche come quelle che vedete in foto, tutte fatte con la carta Hanzi. C'è un altro festival che invece è a metà di maggio, e sempre nella stessa location, che è il Lotus Lantern Festival, che dal 2020 è diventato patrimonio immateriale dell'unisco. Ed è celebrato appunto per commemorare la nascita del Buddha. Queste celebrazioni sono antichissime, risalirebbero all'epoca di Shilla. Inoltre, sulla carta Hanzi ci sono anche dei fotografi, come appunto i John Jin, che stampano le loro fotografie su di essa, ed ottengono dei risultati molto particolari, come questo che vedete in foto. Vi ho messo questo link, che poi vi manterrò con tutta la bibliografia alla fine dell'evento, in cui potete trovare altre fotografie che sono molto particolari e suggestive. Non so perché oggi ogni tanto mi si blocca. Ok, tornando sempre alla carta Hanzi, con la carta Hanzi si possono proprio realizzare delle piccole creazioni, come quelle che vedete in foto. Abbiamo appunto dei vasi, un tavolino. Come avvengono queste creazioni? Praticamente si prendono due fili di carta Hanzi molto lunghi, essi vengono intrecciati dagli artigiani tra di loro, andando a costituire delle vere e proprie fibre, che poi intrecciate a loro volta insieme si vanno a realizzare queste creazioni, che si chiamano Jisun in coreano. Qui abbiamo altri esempi, abbiamo anche, come vedete, dei cappelli, addirittura delle maglie, altri vasi, tavolini, e anche questi sono molto resistenti, seppene fatti di carta. Ora passiamo ad un altro tipo di produzione artigianale, parliamo degli artigiani del legno, i Somok-chan. La produzione del momino in legno, secondo la tradizione, viene nominata nel 1975 per patrimonio culturale e immateriale della nazione coreana. Secondo le fonti, gli artigiani lavoravano in legno già nell'epoca di Silla, e durante la dinastia Corio, questi prendono appunto il nome di Somok-chan, cioè maestri del Somok, quindi della produzione in legno. La caratteristica principale dell'estetica dei Somok-chan è quella di preservare la bellezza naturale del legno, di questo legno vanno appunto a essere esaltati i suoi cerchi, i cerchi del tronco. Diciamo che troveremo anche poi opere laccate, decorate, eccetera, però questo tipo di mobili in particolare è molto semplice, molto naturale, e mantiene appunto questa estetica che richiama la natura e la semplicità, che avete già visto nelle immagini che vi ho mostrato degli interni dell'abitazione tradizionale. Qui è riprodotta la piantina di un'abitazione tradizionale coreana di epoca Zoson, e ora andremo a vedere praticamente in particolare il mobilio che era utilizzato nel numero 5 e 6, che sono le sarampan, cioè sono le stanze dove vivevano, cioè dove trascurreva la maggior parte del tempo e poi il capofamiglia e i suoi figli maschi. Erano le stanze dedicate all'accoglienza, diciamo, degli ospiti, ma anche allo studio, appunto lo studio dei testi confusiani e anche alla produzione artistica di dipinti e poesie. Praticamente perché ho scelto questo tipo di stanza per parlare di questo mobilio? Perché, come vedete dalle immagini, noterete che la disposizione della stanza è molto particolare, è completamente diversa da quella che ci immaginiamo noi in occidente. Il personaggio qui sta seduto a terra. Ora, non so quanti di voi sono stati in Corea o comunque in generale in Asia orientale, ora particolarmente forse Corea e Giappone, dove tradizionalmente non venivano utilizzate sedi, ottavoli e altri come da noi. ci si sedeva fondamentalmente a terra. Questo perché in Corea c'era un sistema poi di riscaldamento, si chiama ondol, per cui il riscaldamento passava per sotto il pavimento. E quindi, proprio perché il pavimento veniva riscaldato, era anche più piacevole, diciamo, stare più in basso. E poi anche gli spazi, diciamo, sono un pochino più angusti rispetto agli spazi a cui siamo abituati noi, diciamo, in occidente. E questo si ripercuose anche nello stile del mobiglio, che vediamo è più basso. Diciamo, la maggior parte dei mobili sono più, con gambe molto corte. Sono andata indietro, ecco. Questo è un altro esempio di Saramban, un po' più, diciamo, abbastanza più grande rispetto a quella di prima. E qui abbiamo alcuni esempi di mobili che erano utilizzati in questo tipo di stanze. Questo è il Soan. Il Soan, solitamente, era utilizzato per mettere su di esso un libro aperto. Poi abbiamo lo Yonsan, che invece era utilizzato per poggiare in esso pennelli, inchiostro e altri oggetti che potevano essere utili ai letterati. Questo è il Saban Takja, che è un altro tipo di mobili che, come vedete, qui è decorato, cioè è arredato con delle ceramiche, le pezza, le ceramiche di porcellane, le porcellane che abbiamo visto la volta scorsa. E invece in questo disegno vediamo che ci sono i libri e utenti come pennelli e altri oggetti che potevano essere, appunto, utili ai letterati. Quindi, diciamo, la maggior parte venivano arredati, appunto, con libri e altri utenti utili per lo studio. E questo è il Moon Cup che era utilizzato per esporre oggetti, diciamo, oggetti più importanti. Questi, invece, sono degli esempi contemporanei prodotti da questa azienda che si chiama Ceiul e che vi volevo mostrare perché comunque si rifanno sempre all'estetica, diciamo, classica, però un pochino rivisitato. Abbiamo maggiori decolazioni, abbiamo, appunto, dei dipinti laccati. Questo qui è particolare perché era utilizzato ed è ancora oggi utilizzato nelle cliniche di medicina tradizionale orientale. Poi, diciamo, un discorso a parte è quello dei Sobanjan, che erano i maestri, appunto, che realizzavano sempre il legno i Soban, che sono questi piccoli tavoli che venivano utilizzati per porre su di essi pasti e, diciamo, che funzionano non solo da tavolino su quale mangiare, ma anche come per trasportare il cibo dalla cucina alla stanza in cui venivano consumati i pasti. E proprio per questo, perché dovevano sopportare il peso del cibo, dovevano essere abbastanza resistenti e venivano di solito, e venivano utilizzati per la loro produzione di solito pino, zinco, noce. Questo è un altro esempio di Soban. Qui vediamo come venivano disposti, appunto, i pasti su di esso e poi non so se sempre non so se siete stati in Corea, però in alcune case coreane si trovano ancora, li utilizzano ancora. Sono molto belle, hanno tantissime forme, qui ne vedete diversi, ognuno ha il suo nome che è relativo alla forma che assume. E queste invece sono delle, diciamo, realizzazioni più contemporanee di un artista che si chiama Yang Byung-myon, che tra l'altro vende questi prodotti in uno dei maggiori supermercati, centri commerciali della Corea, non so se avete sentito lotte. E adesso passiamo a un altro tipo di produzione artistica. Anche questa è molto antica, che però sopravvive, come abbiamo visto nel caso della produzione del legno, anche questa sopravvive fino ad oggi ed è ancora molto prodotta. Sono le decorazioni in madreperla Nazion Silgi. Praticamente il termine Zaghe indica la madreperla ottenuta dai gusci di abalone, vongole ed altri molluschi ed è ciò che veniva appunto utilizzato per la tecnica Nazion che consiste nell'intarsatura con madreperla di un oggetto laccato e il risultato si chiama Nazion Silgi. Nella foto che vedete troviamo un artista contemporaneo Yuchol-hyun che io adoro e potete vedere appunto l'opera è spettacolare secondo me considerando che tutta l'intarsatura è fatta con piccolissimi pezzetti di madreperla. Mi si continua a bloccare scusate lo schermo comunque le decorazioni di madreperla nascono nella Cina dei Tang e da qui si diffondono in gran parte del sud-est asiatico in Corea e in Giappone. Questa tecnica decorativa arriva nel periodo dei tre regni in Corea ma il suo momento di massimo splendore è durante la dinastia Corio la dinastia nella quale abbiamo anche il momento di massimo splendore della seladon della ceramica che abbiamo visto la volta scorsa e diciamo che queste produzioni nascono inizialmente con decorazioni floreali o sorta di arabeschi diciamo anche e man mano diventano sempre più complesse più articolate fino a riprodurre dei veri e propri scenari come quello che vediamo sulla destra. Questo è un altro esempio e questo è invece un esempio contemporaneo di appunto un oggetto che attualmente si può trovare molto facilmente si è andato in Corea nei negozi tradizionali in particolare nel quartiere di Instagram a Seoul trovate tantissimi negozi che vendono oggetti decorati in madreperla come questo e come si produce? Prima di tutto si applica uno strato di laccatura sull'oggetto in legno poi la superficie dell'oggetto viene coperta da un panno di canapa e un altro strato di lacca viene applicato e questo processo viene ripetuto diverse volte prima di passare all'intarsatura con la madreperla e quindi richiede anche diverso tempo che è un tempo che può variare a seconda della difficoltà e della grandezza anche dell'oggetto dai tre mesi fino anche ai tre anni e come vedete il prodotto finale poi è dotato di una forte brillantezza e ridessenza e risulta anche dato che viene applicato questo questo grande strato di laccatura risulta anche molto resistente a umidità ed insetti questo è un paravento molto molto bello prodotto da un laboratorio contemporaneo che si chiama Rijan che vi manderò anche il link di questo se vi può interessare mi dispiace che si continua a bloccare ogni tanto soprattutto quando ammetto le persone che arrivano mi chiedo perdone un po' di pazienza che ogni tanto si blocca questo è un altro prodotto di Rijan che trovo spettacolare bellissimo e anche questi questo invece di un altro artista contemporaneo che si chiama Oh One Tech di cui ho apprezzato moltissimi dettagli perché sono veramente di una delicatezza e di una finezza incredibile questo invece è un esempio di Kionde che è uno specchio che praticamente troviamo in tutte le stanze delle donne coreane in epoca a Zoson magari lo noterete anche se vedete qualche film o dramma storico e che si vendono ancora adesso e sono molto carini un oggetto molto bello d'arredo a destra lo vediamo prodotto in legno e a sinistra con la diciamo decorazione di madreperla questo è un oggetto di un altro artista contemporaneo molto apprezzata che si chiama Oh Yumi e che la caratteristica della sua arte diciamo è molto colorata passiamo quindi alla pittura sul corno di bue Hua Gak e questa la particolare di questa pittura diciamo che questa tecnica arriva dalla Cina siamo di nuovo la Cina dei Tang ed è una tecnica di decorazione dell'osso ma dalla Cina viene la tecnica di decorazione dei carapaci delle tartarughe in Corea invece assume una sua peculiarità si differenzia da essa e i coreani scelgono di utilizzare le corna di bue ora vedremo che è particolarmente lungo e complicato il processo con cui queste corna di bue si trasformano da corna appunto a materiale sul quale dipingere la caratteristica poi di questo tipo di decorazione è l'uso della oltre che del corno di bue appunto dei cinque colori tradizionali coreanni i opansek che rappresentano anche i cinque elementi e i cinque punti cardinali quindi abbiamo il blu che è est e legno rosso sud e fuoco giallo centro e terra bianco ovest e metallo nero nord ed acqua per ottenere questi colori è utilizzata una cosa particolarissima che è la polvere di pietra sono proprio delle pietre che vengono frantumate e rese polvere e insieme ad un collante totalmente naturale viene realizzata questa pittura vi è un documentario molto bello che ho qui allegato che però non penso avremo tempo di vedere su un artista contemporaneo che si chiama i zonson che quindi vi manderò anche questo queste sono alcune opere appunto realizzate su come dicevo le corna di bue praticamente queste corna di bue vengono fatte cuocere per lunghissime ore prima per eliminare la cartilagine dopodiché vengono nuovamente cuote per circa 45 ore per rendere mobile morbide abbastanza per essere piegate che è un'operazione difficilissima perché devono diventare orizzontali in modo che si possa appunto si possano decorare e poi applicare sul mobilio e una volta diventate poi orizzontali queste corna di bue vengono anche rese molto sottili tagliate a strati sottili di circa 0,3 millimetri e se vedete il documentario vedrete che praticamente sembrano quasi dei fogli di carta tanto che poi diventano sottili queste sono le opere di I Zeman che vedete qui in foto che è la foto anche della locandina sono bellissime e coloratissime e ora passiamo al ricamo allora praticamente per il ricamo in coreano jasu è un'altra diciamo forma di artigianato antichissima secondo le fonti storiche in particolare abbiamo la cronaca dei tre regni che è un testo cinese del terzo secolo il ricamo coreano sembra che fosse già diffuso nei regni coreani di Puyo e di Kokuryo praticamente questo vedete più a destra è un testo che è stato pubblicato abbastanza di recente adesso non ricordo l'anno di pubblicazione che appunto racconta di questi duemila anni di sviluppo di quest'arte tradizionale coreana questo è un esempio contemporaneo in realtà che però mi piaceva moltissimo perché poi rende bene la bravura dell'artizzano e l'accuratezza dei dettagli questo invece è del periodo Gioson e praticamente questo era un ricamo che trovavamo su alcune divise degli ufficiali di corte qui invece abbiamo un ricamo tipico dell'abito del sovrano l'abito del drago il cognom che rappresenta come abbiamo detto già nello scorso seminario il drago associato all'acqua in Asia è un essere benevolo non come nel medioevo in occidente che era un essere terrificante e malvagio il drago è di buon auspicio in Asia e del simbolo imperiare per eccellenza tant'è vero che lo ritroviamo sugli abiti dei regnanti di Cina Corea Vietnam e ora non so bene anche se altri paesi asiatici e qui abbiamo appunto delle foto di riproduzione di abiti di re e regina qui invece abbiamo delle decorazioni con motivi diciamo buddhisti e qui abbiamo rappresentazioni del folklore quello che vedete al centro dovrebbe essere onechi che praticamente era un animale mitologico assomigliava in Corea assomigliava a una sorta di leone con un corno in testa perché poi in realtà è un animale che è mitologico che appartiene anche alla mitologia cinese però lì avrebbe un aspetto un po' più particolare più vicino a un bue a una capra e sarebbe in grado di prevenire disastri quindi veniva diciamo rappresentato per il suo potere apotropaico di scazzare la malasorte di prevenire appunto calamità in particolare incendi abbiamo una ortizana circondata dalle sue creazioni e come vediamo con il ricamo vengono decorati tantissimi oggetti come appunto questo oggetto praticamente era utilizzato per in testa per si attaccava vicino alla triccia delle donne e questa è una pochette dei specchi e sono tutti oggetti che si possono ancora oggi acquistare in Corea e passiamo quindi ai nodi l'arte dei nodi che è detta in coreano è particolare perché anche questa è antichissima si sviluppa in diversi paesi asiatici ma quella la tecnica coreana diciamo che è peculiare perché ha una maggiore tridimensionalità e spessore rispetto cioè se la confrontiamo ad esempio ai nodi che si facevano in Giappone ed in Cina che in realtà si fanno ancora oggi qui ne vediamo tantissimi esempi ma non credo siano solo questi ci sono anche altri nodi e tra l'altro per farli si vuole un tempo veramente lungo una grande concentrazione se cercate su internet trovate anche dei video in cui diciamo cercano di ingegnare a farli non è facilissimo almeno per me e qui troviamo i nodi che decorano i norighe che sono appunto questi oggetti che andavano a decorare gli abiti tradizionali i hanbok qui abbiamo altri esempi altri ancora non so se io immagino che molti di voi conoscano i hanbok sappiano che aspetto hanno però nel caso in cui ci fosse qualcuno che non lo sapesse ho messo queste foto che a me piacciono tantissimo questo è tratto da un drama che è di qualche anno fa molto bello è ispirato tra l'altro a un personaggio davvero esistito però la cui storia è stata molto molto romanzata questa sono io che indosso un hanbok in un villaggio tradizionale perché poi se andate in Corea ci sono tantissimi villaggi tradizionali che potete visitare e potete anche prendere in prestito appunto degli hanbok e divertirvi con i vostri amici appunto a girare e farvi foto simpatiche e questi sono altri oggettini che vengono ancora oggi prodotti con l'utilizzo di tecniche classiche di appunto di intrezzo di nodi e ovviamente sono oggetti più contemporanei questi altri brazzolettini e decori praticamente per vasi e portachiavi di vario genere questi sono praticamente li trovate in quantità industriali quando andate in Corea nei negozi di souvenir e adesso passiamo a un'altra specialità una specialità della zona di kwangwado cioè dell'isola di kwangwado che è un'isola che si trova a nord praticamente sul diciamo molto vicino alla Corea del Nord tant'è vero che c'è un osservatorio molto interessante dove si può appunto vedere la Corea del Nord io ci sono stata ed è un posto che vi consiglio di andare a visitare e queste sono stuoglie di fibre di jungko che in coreano si chiamano Hwamunsook e praticamente anche questa è una tecnica antichissima che è peculiare appunto della Corea che poi si diffonde successivamente non è che si diffonde che viene poi queste produzioni questi articoli vengono poi esportati in gran parte dell'Asia orientale ed escusano un grosso successo e dalle fonti sembra che si sessero già dall'epoca di Scella però diciamo l'esportazione è attestata dal periodo di Cocurio e per la produzione di una di queste stuoglie ci vogliono circa dai 7 ai 10 giorni richiedono il lavoro congiunto dai due a tre artigiani come vedete in questa foto che sono in tre e oggi praticamente queste fibre di zungo vengono unite con dei fili di nylon e questi sono questi che vedete in foto qui ho messo alcuni esempi di queste stuoglie di motivi decorativi oltre alle stuie vengono anche realizzati dei contenitori e altri oggettini questi sono dei cuscini praticamente sui quali sedersi e ora passiamo a un'altra particolare un'altra eccellenza coreana che è la ramia di Hansan la Hansan Moshe che è una specialità del il meridionale che troviamo un po' più sotto pensiamo a Seul e sta un po' più sotto sulla costa ovest e anche questa nel 2011 è stata inserita nel patrimonio di patrimonio di cosa ho scritto patrimonio orale e materiale dell'umanità dell'UNESCO ecco quindi potete capire l'eccellenza di questa produzione e quella che vedete in foto adesso ovviamente un'artegiana a sinistra invece vedete una sfilata del 2011 se non erro 2010 che si è tenuta a Parigi e appunto questi abiti una rivisitazione contemporanea dei hanbok realizzati con questa ramia ovviamente si tratta di un tessuto prettamente estivo però di altissima qualità qui abbiamo altre foto di abiti realizzati con la ramia e qui appunto vedete questa è la ramia e queste sono altre produzioni fatte con la ramia ed ecco l'ultima cosa di cui l'ultima eccellenza di cui volevo parlarvi sono i mingua questo è uno stile che viene sviluppato in epoca Zoson diventa particolarmente popolare tra il XIX e il XX secolo e allora inizialmente sono gli artisti di porte a creare questi dipinti per decorare appunto i palazzi reali ma successivamente diventano molto popolari tra il popolo e nella borghesia e iniziano a essere realizzati da tanti artisti appunto anonimi che di queste classi sociale facevano parte e man mano poi questi dipinti vanno a decorare anche le case del popolo allora ora vi parlerò di alcune delle diciamo decorazioni motivi più diffusi tra questi lingua tra questi vediamo ad esempio i dipinti di peonie la peonia in coreano è moran questi dipinti siano morandù e ovviamente la maggior parte dei motivi che ritroviamo hanno un valore simbolico nel caso della peonia questa simbolizza salute rispetto e benessere economico e rappresenta un motivo molto diffuso nell'arte d'epoca zosonno anche se si trova anche prima l'abbiamo l'abbiamo vista ad esempio sulle ceramiche sulle seladon di coreano e inoltre la peonia è un simbolo di pace e stabilità per la nazione quindi adesso vedete praticamente un dipinto di epoca zosonno e a sinistra invece vi ho messo un minua contemporaneo perché il minua diventa molto popolare in epoca zosonno poi ovviamente ci sta una sorta di buco nero nel periodo della guerra civile in cui la produzione è praticamente azzerata di quasi tutte le produzioni artistiche e comunque in epoca più recente i minua tornano moltissimo di moda e c'è un grande proliferare di artisti contemporanei che realizzano dei minua stupendi che a me fanno impazzire e che appunto per questo sono un elemento immancabile del mio negozio immaginario di oggetti coreani di cui vi parlavo all'inizio del webinar quindi questo artista si chiama Nam Ki Son e come vedete ritroviamo la pezza la porcellana coreana sulla quale c'è il motivo del drago poi la tigre che abbiamo visto anche la volta scorsa un altro motivo che ritroviamo nella ceramica pezza e poi ovviamente le peonie un altro motivo molto diffuso in epoca giosonno è quello del ceccori il procedente ceccori contiene immagini di pili di libbre rappresentazione appunto dello studioso confusano perché sappiamo che in epoca giosonno lo studioso confusano era il membro più importante della società e quindi rappresenta proprio questo amore per lo studio e la sapienza di quest'epoca e gli altri oggetti presenti appunto in questi dipinti sono altresì espressione di questo amore per la sapienza perché che cosa abbiamo ritroviamo i che sono i quattro amici dello studiolo cioè la carta il pennello il blocco di inchiostro e la pietra per sciogliere l'inchiostro pioru gli oggetti che appunto venivano utilizzati dagli studiosi perché poi il blocco di inchiostro perché l'inchiostro era era solido quindi lo utilizzavano in questi blocchi soliti che poi andavano sciolti e per poterli sciogliere appunto avevano bisogno di queste pietre che sono questa e questa pietra che vedete qui che si chiama che vi ho detto si chiama pioru e poi insieme ad essi poi ritroviamo altri sbagliati tipi di oggetti tra cui fiori vasi strumenti musicali ma anche vegetali vi ricordate la volta scorsa avevamo visto il vaso Mepion con il ramo di Bruno che ritroviamo anche qui che è un elemento decorativo molto diffuso e questo tipo di Mepion è particolare per la prospettiva con cui gli oggetti vengono rappresentati perché vediamo che è una prospettiva sicuramente non reale non è realistica però è molto particolare e c'è un grande senso di riempimento dello spazio qui abbiamo altri esempi qui ritroviamo anche degli animali una sorta di animali mitologici una sorta di drago e qui c'è un dipinto che è spiegato solo in parte è una rappresentazione paesaggistica un altro tema molto diffuso è quello del hua judo che sono dipinti di fiori ed uccelli ma in essi solitamente ritroviamo anche altri animali come sorbiatti con i solitamente sono coppie di animali anche farfalli o api che simbolezzano una felice unione coniugale e quindi si credeva che potessero avere un effetto positivo sulla fertilità per questo motivo venivano spesso utilizzati nelle stanze dei novelli sposi qui abbiamo degli esempi più contemporanei e poi passiamo al Shibjan Sendhu che sono i dipinti dei dieci simboli di longevità che se avete partecipato al webinar sulla ceramica noi li abbiamo già visti in questo reperto in questa ciotola del diciannovesimo secolo dove li troviamo i dieci simboli della longevità e li troviamo anche nei mingu appunto e questi dieci simboli della longevità sono praticamente elementi naturali che tradizionalmente erano associati a una lunga vita quali le nuvole le montagne le rocce l'acqua l'albero di pino che è sempre verde le tartarughe la gru i serbiatti il bambù e poi c'è il fungo dell'immortalità iongiposo in coreano e questi erano motivi diffusi prevalentemente accolte dove erano messi spesso in mostra durante i banchetti questo era un paravento di epoca Zoson purtroppo non si vede benissimo ma ho trovato delle foto migliori di questo e poi andiamo ai munzadu che sono praticamente caratteri caratteri cinesi e hanza che tradizionalmente in corea venivano utilizzati si scrive con i caratteri cinesi prima appunto della creazione dell'alfabeto hangul nel 1443 da parte del re se zong quindi ma anche dopo la creazione dell'alfabeto hangul per lungo tempo vengono ancora utilizzati i caratteri cinesi e quelli rappresentati nel munzadu sono quelli degli otto principi della morale confuciana che ho elencato qui se volete approfondirlo magari mi mandate un mail qualcosa ora non è un argomento un po' lungo quindi ve lo mostro molto velocemente in particolare forse uno dei più rappresentativi che noi associamo al pensiero confuciano all'oriente la pietà filiale che a volte si dice che in un incidente non ci sia ho avuto un dibattito su questa cosa con gli amici coreani però sarebbe questo carattere della pietà della pietà filiale rappresenterebbe un giovane sulle cui spalle porta un anziano che potrebbe essere un antenato con i genitori perché c'è appunto questo forte rispetto verso gli antenati e chi ci ha dato la luce alla luce motivo per cui poi si celebrano anche gli antenati nei riti ancestrali in Corea questo è un paravento sempre con questi otto ideogrammi associati a altri motivi come potete vedere ci sono molti fiori ma anche pennelli libri e altri animali simbolici e poi uno dei miei motivi preferiti quello della tigre è la gazzaladra che in coreano lo chiamano ho jackdo oppure jackdo oppure in origine in epoca joseon lo chiamano menhodo è un motivo che è molto molto diffuso nell'arte minwa si trovano davvero tanti vedrete se andate in Corea anche in qualche museo e soprattutto in quelli dedicati ai minwa ci sono veramente tantissime rappresentazioni della tigre con la gazzaladra e la tigre ne abbiamo parlato anche la volta scorsa infatti ho riportato la stessa slide che c'era nell'altra presentazione dove c'è la porcellana che riproduce appunto una stessa cioè praticamente come il minwa è la stessa cosa la tigre come abbiamo detto è come il leone per l'Africa è il re degli animali simbolo di ferroza e forza è temuta dai coreani però in questi minwa è spesso rappresentata in maniera umoristica è proprio buffa la faccia di questo qui allora ci sono alcune interpretazioni una per la quale serve questa tigre esorcizzerebbe la paura e quindi ha una funzione di allontanare la malasorte ed anche la gazzaladra sarebbe di buon aspicio porterebbe fortuna infatti ancora oggi si pensa che sentire il canto di una gazzaladra sia di buon aspicio se senti il canto di una gazzaladra probabilmente avrà una bella giornata un'altra interpretazione molto interessante è quella che la tigre potesse essere una parodia dello stato da parte delle classi più basse quindi questo stato che fa paura e feroce può spaventare però viene ridicolizzato in queste rappresentazioni come vedete anche in queste qui che ho riportato qui e mentre la sazza gazzaladra che sembra quasi farsi beffa appunto di questa tigre sarebbe il popolo con questa è un'interpretazione però non abbiamo certezza di questa ipotesi e come vi dicevo i minwa oggi sono molto popolari c'è una grande produzione oggi di minwa bellissimi questo è un altro esempio di namjison che sembra amare particolarmente queste rappresentazioni di tigri con con drago e peonie questo l'avevo riportata nella scorsa presentazione sulla ceramica per appunto per parlare dei mapeon che sono questi vasi qui che solitamente sono arricchiti con un ramo di prugno e questo è particolare perché ritroviamo diverse delle produzioni dei prodotti artistici che abbiamo visto in questo webinar perché appunto se il mobile in legno quello decorato in madre perla questo potrebbe sembrare una delle produzioni di Gisung quelle con cartangi potrebbero abbiamo anche il ricamo i soban i tavolini che abbiamo visto per mangiare anche gli intrezzi i nodi quindi un piccolo riassunto di questo webinar in un certo senso è un artista anche questa contemporanea che si chiama Pacoza che anche lei mi piace tantissimo e il dipinto si chiama L'attesa un altro sempre della stessa artista che è uno stile più moderno sicuramente anche se riprende comunque diciamo tematiche e simboli della tradizione come la fenice e questo si insula ti proteggerò probabilmente è una fenice che vola su Seul quindi mi immagino che sia lì per proteggere appunto Seul questo è un altro artista che si chiama Mungomson che invece ha uno stile un pochino diverso è molto molto carino secondo me come dipinge particolare come dipinge appunto i gatti tra l'altro vedremo che i gatti sono molto popolari in questi miuva anche sia quelli classici che quelli contemporanei qui invece abbiamo un trio di di donne napoliti tradizionali di Epoca Zosona che hanno anche queste parrucche che venivano anche questi indossati in Epoca Zosona che erano delle parrucche molto grandi molto probabilmente anche pesanti e incombranti però molto belle e vediamo che mi diciamo vanno a decorare anche oggetti come questo ventaglio e qui ho riportato l'account Instagram di quest'artista perché molto bello e ve lo invierò e qui abbiamo un'altra artista contemporanea Sonnyu e questa opera si chiama La primavera dopo che ci ho incontrato e come potete vedere apprezziamo di nuovo dei gatti e sempre di Sonnyu c'è quest'altra opera che si chiama Nella lunga notte dell'undicesimo mese che è una delle mie opere preferite e praticamente questa questo mingua è ispirato a una poesia di una giseng non so se voi avete mai sentito parlare di giseng le giseng in un certo senso le possiamo accomunare alle gheshe la ghesha giapponese erano erano appunto delle artiste delle intrattenitici professioniste versate in diversi tipi di arti e molto colte anche e che quindi come la ghesha a un certo punto viene anche confusa con la prostituta però diciamo che nasce come artista e come intrattenitice professionista e questa in questo caso questa questo dipinto è appunto tratto da questa poesia scritta da questa giseng che si chiama Wanji Ni che è una giseng molto famosa del sedicesimo secolo e allora io ho provato a tradurre la poesia anche se era molto difficile perché poi è molto particolare come scritta e ho cercato anche delle traduzioni in inglese per fare un confronto e tutte le traduzioni erano diverse tra di loro quindi alla fine ho provato a fare una mia interpretazione della poesia e quindi sicuramente l'ho modificata rispetto all'originale però provo a riportarvela giusto per darvi l'idea di quello che voglio raccontare quel dipinto perché la poesia in italiano della mia versione è questa taglierò la profondità di questa lunga notte d'inverno e l'avvolgerò nel tepore del vento primaverile che come una coperta si dispiegherà la notte in cui il mio amato tornerà perché possiamo immaginare che ovviamente questa ghiseng probabilmente aveva perso il suo amato comunque non aveva più notizie di lui e quindi resta nella sua attesa che poi ovviamente in un'epoca in cui non esistono i social network possiamo immaginare soltanto immaginare quando fosse elogorante poi per una donna che svolge un lavoro per cui è costretta a dover intrattenere altre persone comunque intanto soffrire per la mancanza di qualcuno possiamo soltanto immaginare poi diciamo il vuoto della notte la profondità della notte quando possa essere come dire alienante forse anche e quindi questo dipinto in un certo senso è ispirato a questa cerca di riprodurre il senso di questa poesia e con questo dipinto finisco il webinar penso di aver parlato anche abbastanza volevo soltanto dire che ad avermi ispirato c'è stata anche una serie molto bella dell'istituto culturale coreano di Roma che è quella delle serie delle nove sedie che io vi consiglio vivamente di vedere ho riportato nelle fonti tutti i link perché ci sono i video youtube e praticamente è una serie fatta appunto di nove video in ognuno di essi c'è un artizzano contemporaneo coreano specializzato in un tipo di arte la maggior parte di questi ne abbiamo parlato oggi forse soltanto la ceva di questa non ne ho parlato e praticamente ognuno di loro a stavolta si ispira a un artista italiano per realizzare una sedia decorata con l'arte nel cui appunto è specializzato scusate e sono andata le sbagli indietro e quindi vi manderò se siete interessati anche questi link molto belli e questi invece sono i nostri contatti un chimpio basilico e viaggi in Corea e grazie a tutti per la vostra attenzione spero che vi sia piaciuto questo webinar e se avete domande non esitate a farle o anche a contattarmi per i mail grazie Sara bellissimo webinar come sempre grazie grazie mille buona serata grazie buona serata buona serata Claudia che aveva una domanda ah sì sono rimasto affascinata dalla carta Ange e dai suoi utilizzi come è percepito oggi il mestiere di artigiano può essere un approdo per i giovani come si diviene artigiani allora ora per la carta Ange non so nello specifico però io credo ci siano dei corsi anche all'università perché ho parlato con un docente italiano che era un architetto italiano che era stato in Corea per organizzare uno scambio con la sua università e quella coreana e lui mi ha raccontato appunto che in questa università coreana loro ora non mi ricordo però qual è l'università comunque loro studiavano proprio la ceramica o nello specifico facevano proprio corsi di ceramica che mi ha colpito perché no in Italia non credo ci siano corsi universitari di ceramica però dovrebbero essersi anche corsi per altri tipi di produzioni artigionali credo anche Anji perché è un punto importante mentre poi ci sono ovviamente laboratori dove poter imparare questo tipo di arti tradizionali tra l'altro loro sono molto attivi nell'organizzare e promuovere le forme d'arti tradizionali anche Anna fa una domanda sulla carta Anji grazie mille per la prossima presentazione sai per caso se la carta Anji e la sua produzione sia più sostenibile o meno impattante a livello ambientale rispetto alla carta normale avrebbe senza utilizzarla anche in occidente guarda non so quanto sia impattante perché poi in realtà come ho detto questo tipo di albero non pare che non ci sia da noi o almeno non è lo stesso che viene utilizzato da noi quindi poi dovrebbe essere probabilmente portato da noi e già questo credo che non sia molto cioè potrebbe comunque causare problemi a livello ambientale guarda non so non saprei dire quanto poi una produzione in larga scala possa essere più sostenibile o meno perché poi so che lo studiano all'Accademia di Belle Arti di Roma quindi sicuramente li usano le tecniche tradizionali che non prevedono materiali cioè sostanze chimiche però non lo so se possa essere diciamo proprio utilizzata ad esempio per fare i libri che abbiamo utilizziamo tutti i giorni questo non so puoi dirlo credo che durante il G20 il presente Moon e la First Lady sono andati all'Accademia di Roma ho visitato una buona e poi ho sostituito che poi questa carta è anche molto isolante cioè oltre a far più può essere la luce ma funziona anche come ottimo isolante davvero tante qualità sì poi questa cosa che è molto resistente all'umidità incredibile il fatto del ginseng mi ha colpito tantissimo per mille anni complimenti grazie per i guardi molto belli si vede che ami ciò di cui parli grazie 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 Raffaella è rimasto affasciata da Miwa allora io vi mando i link degli artisti delle pagine instagram ma comunque poi se cercate Miwa si trova davvero tantissimo online perché ce ne sono tantissimi mi ha domanda sui artisti cioè in più in epoca a corte c'erano anche gli artisti di corte come c'erano appunto nelle corti occidentali cioè che ruolo avevano nella società avevano un ruolo comunque ma allora guarda che al di là dei Miwa questa era la produzione dei zombie che sono i letterati e i letterati facevano tantissimi cioè producevano tantissimi dipinti e solitamente poi ogni dipinto era associato a una poesia e quindi cioè è un argomento che non ho voluto non ho voluto parlare anche di questa produzione perché poi è molto più passiva perché poi ho seguito un corso su questa produzione artistica c'erano molti richiami alla Cina artisti cinesi quindi c'è una cosa lunghissima però sì i letterati confuciani erano degli artisti veri e propri su tutti un'altra Eleonora al di là degli artigiani artisti di oggi che portano avanti la tradizione in che modo l'artigianato tradizionale ha influenzato il design contemporaneo? Guarda molto perché producono tantissimo cioè ci tengono molto in Corea la tradizione e quindi si rifanno spesso appunto agli oggetti della tradizione le produzioni tradizionali perché ad esempio i mobili in legno cioè quello c'è ancora adesso lo stesso design che c'era una volta lo riproducono ancora adesso magari provano anche a renderlo più moderno però c'è la base diciamo è molto quella ovviamente poi c'è anche il mobiglio di influenza occidentale in stile più occidentale però si produce ancora molto guardando la tradizione perché ci tengono tantissimo la tradizione Sara scusami ho perso la prima parte quindi non so se tu hai già approfondito questo aspetto volevo chiederti che tipo di rapporto esisteva tra gli artisti di corte e i poteri sovrani che tipo di rapporto avevano e puoi rispondermi perché lo sai che io do sempre un taglio antropologico alle questioni tu pensa a Roma mecenate comunque erano degli intellettuali di corte che dovevano ovviamente fare da propaganda il tipo di regime di imperatore in quel determinato momento in quel caso era Augusto ma poi si continua ad avere gli artisti di corte gli stessi imperatori erano artisti ok pensando a Nerone non so se si può fare non dico un discorso analogo perché stiamo parlando ovviamente di mondi diversi però sarebbe interessante capire che tipo di rapporto gli artisti avevano col potere precostituito cioè con il re comunque la corte erano importanti che ruolo avevano perché io avevo portato da poco voglio dire no no infatti rappresenta un regno no il discorso è abbastanza lungo perché io poi ho portato in mingua proprio per non portare quello che era l'arte dei letterati confuciani però i confuciani sono tutti molto cioè proprio sono formati ad essere non solo poeti eruditi ma anche a fare dipinti come dicevo molte poesie nella maggior parte le poesie che fanno sono associate a un dipinto e e questi potevano comunque esaltare la figura del re perché la figura del re è centrale nell'ideologia confusana il re è il padre della nazione però poi c'erano anche chi criticava nel caso in cui si la la sua ideologia e il suo diciamo anche la sua formazione politica poi si scontrava con quello che era la politica del regnante di chi aveva il potere in quel periodo perché poi ci sono anche scontri tra fazioni nel corso del tempo quindi chi appartiene a una fazione che in quel periodo non era in quel determinato periodo non era dominante magari esprimeva attraverso la sua arte sempre utilizzando diciamo non in maniera mai in maniera troppo troppo diretta però facendo riferimento magari a personaggi famosi cinesi della storia cinese loro fanno spesso poi riferimento a personaggi della Cina per criticare o per appunto esprimere la loro idea che magari non andava a convergere con quella dominante in quel periodo questa è la mia risposta va bene a Roma andavano più pesante se non andava se non corrispondeva all'ideologia dell'imperatore venivano eliminati cioè Vidio è finito esula ai confini dell'impero ma poi esili esili ci sono stati anche anche molti pensiamo a Sene Callucano voglio dire non è che andavano molto o eri totalmente asservito al potere altrimenti non potevi in qualche modo sconfinare quindi credo che comunque un potere assoluto ai suoi artisti richieda questo anche se siamo in occidente come in oriente poi c'è sempre la cartina come dire il riferimento lo specchio esterno per evitare le ire dei operatori ma comunque molto interessante io comunque adesso ho fatto riferimento a un periodo più tardo perché l'epoca Sonson stiamo parlando corrisponderebbe poi dal diciamo quattordicesimo secolo fino all'invasione giapponese quindi diciamo inizio dell'impero coloniale 1910 prima non epoche precedenti non mi entro troppo perché potrei dire scevenze quindi perdonami sono mie curiosità perché stiamo scavando in un pozzo senza fondo quando si entra in certi argomenti io sono partita dai tempi molto antichi cioè primo secolo a cavallo primo secolo avanti e dopo Cristo quindi sono andata molto perché si sentiva molto la figura dell'artista ed era importantissimo per la propaganda per la propaganda del regime imperiale comunque molto interessante grazie sempre prego ci sono altre domande quindi in Italia ci sono state mostre a riguardo organizzate dal consolato per l'istituto culturale oddio allora a parte quella che i video su youtube dell'istituto culturale coreano forse cantina ci può aiutare esattamente nel senso che abbiamo avuto una mostra appunto d'arte noi possiamo dire che per quanto riguarda la carta tradizionale viene usata la usiamo per regali di pregio e in generale la usiamo in alcune occasioni particolari però in questo caso ci arriva direttamente dalla Corea ora in Italia sappiamo che si può acquistare però anche qui bisogna distinguere dalla qualità come ha detto giustamente Sara le produzioni appigianali coreane di qualità hanno un certo costo e ne è anche difficile reperirle in Italia quindi come dire è anche abbastanza per quando c'è stato l'expo ci sono state tanti tipi di come dire tanti tipi appunto di rappresentazioni che includevano appunto quello che diceva giustamente Sara prima quindi riparsi a motivi tradizionali sia dell'artigianato che delle tradizioni così però anche qui è sempre una questione come dire di difficoltà per quanto riguarda l'Italia e anche in questo senso come consolato cerchiamo di lavorare attivamente uno appunto dei prossimi obiettivi quando la situazione pandemica migliorerà è quello appunto di cercare di promuovere tanti vari altri aspetti delle varie tradizioni culturali coreani che molto spesso a torto sono considerate come di nicchia ma che in realtà possono avere un grande potenziale tra cui appunto tutta una serie di manufatti che rientrano appunto nei vari canoni artistici che Sara ci ha magnificamente come dire esposto questa sera grazie grazie non vediamo l'ora di prendere parte a qualche evento assolutamente assolutamente direi che non ci sono altre domande va bene il caso ovviamente ci possono scrivere un'email o contattere sulla pagina per qualsiasi curiosità dubbio per le fonti anche qualsiasi cosa le manderò grazie a tutti per l'attenzione mi ha fatto molto piacere rivedervi grazie a Donatella grazie a tutti grazie mille grazie 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 a voi e ci vediamo il 4 dicembre alle 10 10 di mattina con gli alcolici coreani con la sommelier dalla Corea quindi per questo l'orario è un po' diverso ringrazio e speriamo di vederci sabato prossimo il 4 grazie a voi buona serata buona serata buona serata a tutti molte grazie ciao 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 buona serata arrivederci arrivederci ciao